va a partire però mi sembrate due scemi scusa ma come facciamo a sembrare a sembrare lo siamo? ah aspetta io non ho capito il perché di questo perché io non giro io non ho voglia di girare la chiave ah ecco il perché di tutta sta stronzata le forze dobbiamo risparmiarle per le stronzate? sì perché oggi è drammatica la cosa abbiamo quasi spappolato un albero di trasmissione cioè voi a ogni vita fate questa storia adesso? sì ma ho finito ah ecco basta giochino è finito vai tira ah ecco vai tira cazzo la macchina è la sua ma tanto anche se era la sua tua ma la gomma è la tua ma è la gomma e allora io la lascio lenta così la perdo bella sta gomma però eh? c'è un po' quasi nuova cazzo madonna come è diventato sto dente è un disastro cazzo ma te hai visto l'albero mio qui che è grattato? c'è il grasso lì cazzo è uscito tutto la cuffia questa è la nuova binda appena acquistata l'abbiamo subito messa all'opera ma subito eh prima uscita con la binda ciò dimostra che non si comprano mai attrezzi che poi non servono no è solo che non abbiamo la mazza per raddrizzare il cerchio e vedi ci voleva Walter ci voleva Walter ci voleva farlo boh basta allora tiriamo giù si metto su tutto ok ce la scatta la molle è dentro? boh guarda mi sta da no sotto no sotto no è a posto mamma di rialza perché non rialzo ma cazzo sta così che coglioni certo che dentro si fa perché c'è il ponte che tiro verso l'alto quindi alza un altro ponte ok ora viene giù che la tengo in posizione lucia la testa sotto questo essere veri amici l'importante che non gliela tira su dopo se c'è la testa non importa fa dei rumori molesti che cavolo ha scritto basta la faccia di una persona che non lavora mai tutto l'anno chiederò i danni intanto caviamo la macchina guarda